Agenti della Digos della Questura di Bari hanno avviato accertamenti su alcuni cittadini di nazionalità tunisina residenti in provincia di Bari che risulterebbero essere entrati in contatto nelle scorse settimane con l'attentatore di Nizza. L'impulso alle verifiche è arrivato direttamente dall'autorità giudiziaria francese che ha segnalato i contatti sospetti. Degli accertamenti in corso su cui gli investigatori baresi mantengono il massimo riservo viene costantemente informata anche l'autorità giudiziaria barese, in particolare a coordinare queste verifiche il neo nominato procuratore aggiunto Roberto Rossi, magistrato antimafia, il quale negli ultimi mesi ha aperto diversi fascicoli di inchiesta proprio sui passaggi sospetti dal porto di Bari sul ruolo del capologo pugliese come base logistica per supporto a foreign fighters. Negli atti di una recente indagine della Didia di Bari sul terrorismo internazionale di matrice islamica veniva posto l'accento sull'analisi dei tabulati telefonici e soprattutto sulle telefonate in arrivo partenza verso svariati numeri internazionali di stati esteri, tra i quali Iraq, Francia, Germania, Regno Unito, Repubblica Ceca, Tunisia, Norvegia, Grecia, Svizzera, Romania e Afghanistan. Su queste utenze internazionali erano già state avviate verifiche in collaborazione con gli investigatori esteri. È stato dunque accertato che la persona su cui le autorità italiane stanno effettuando verifiche, uno dei sette fermati a Nizza, sarebbe un tunisino e avrebbe lavorato anni fa in Puglia. L'uomo faceva parte della rete di contatti dell'attentatore alla guida del camion che ha fatto strage sulla Promenade des Anglais. A cinque giorni dalla strage l'indagine delle autorità francesi si allarga dunque anche in Italia, dove sono scattate immediatamente le verifiche della polizia. Gli accertamenti di Digos e antiterrorismo si sono concentrati in particolare sul nome di un tunisino, Bulel. Secondo quanto hanno ricostruito le autorità di Parigi, aveva infatti una rete di relazioni a Nizza, composta essenzialmente da stranieri di varia provenienza. Le prime verifiche avrebbero però consentito di escludere sia che l'uomo fosse stato in contatto con l'attentatore di Nizza nel periodo trascorso nel nostro paese, sia che abbia avuto contatti con ambienti del radicalismo islamico. Tra l'altro sarebbe anche stato accertato che quando nel 2015 Bulel fu fermato alla frontiera di Ventimiglia per un controllo identificato e fatto passare in quanto su di lui non c'era alcun elemento che lo facesse ritenere un soggetto pericoloso, il tunisino fermato a Nizza era già andato via dall'Italia. È probabile dunque che Bulel e il tunisino si siano conosciuti all'arrivo di quest'ultimo in Francia. In ogni caso gli accertamenti sono ancora in corso per ricostruire l'intera rete di contatti dell'uomo in Italia, capire se ha mantenuto legami con qualcuno ancora presente in Puglia e i suoi spostamenti.